Benvenuti a Catania Medica News, il diabete di tipo 1 è una forma di diabete che colpisce bambini, adolescenti, giovani e che impone fin dall'esordio l'uso quotidiano della terapia insulinica e l'apprendimento di una serie di competenze funzionali alla cura. Tutto questo può limitare la vita di un diabetico? È rischioso per una persona diabetica viaggiare? A questa ed altre domande risponde, nella intervista che stiamo per vedere, dal titolo significativo Il diabete in viaggio, la dottoressa Rita Garofalo, dirigente medico del servizio di diabetologia dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, diretto dal professor Massimo Buscema, la dottoressa Garofalo, specialista in endocrinologia e psicoterapeuta, da anni si occupa di quali siano gli accorgimenti che un diabetico che pratica insulina deve mettere in atto dal momento in cui intraprende un viaggio In effetti io non ho scelto di fare la diabetologa. Come endocrinologa prima di vincere il concorso mi occupavo di carcinomi tiroidei. Poi mi sono appassionata a questo lavoro e ancora oggi dopo 25 anni ogni giorno scopro quanto sia importante essere educatori e poter migliorare la qualità della vita delle persone con diabete. Certo! Se vuole può anche fare il giro del mondo! Assolutamente sì! Si può viaggiare in qualsiasi paese straniero, ovviamente, purché ci si organizzi in modo adeguato. La cosa più importante è pianificare al meglio il proprio viaggio valutandone tutti i suoi aspetti. Per prima cosa bisogna informarsi sulle condizioni di assistenza sanitaria del paese in cui si va. Infatti, una cosa è viaggiare in Europa, dove la nostra tessera sanitaria è valida per coprire le eventuali spese sanitarie. Un'altra cosa è andare in paesi extraeuropei, come per esempio gli Stati Uniti, o il Sud America, o l'Asia, o l'Africa. Se si va in questi paesi è bene partire dopo aver stipulato un'assicurazione sanitaria. Inoltre, è estremamente importante conoscere le condizioni climatiche e ambientali, in modo da poter affrontare le eventuali escursioni termiche che ci possono essere, o tra il giorno e la notte, o se si viaggia in camper o in tenda, magari, per quello che possono essere eventuali percorsi, i trekking che sono previsti, le escursioni giornaliere, anche di quota, che ci possono essere. E' altrettanto importante sapere che tipo di alimenti sono presenti nel paese che visitiamo. E' questo, intanto, per capire se il cibo che troveremo è un cibo che ci piace, ma anche per informarci sulla quantità di carboidrati che questi alimenti contengono. Beh sì, in paesi dell'America Latina, come il Messico e il Guatemala, si usa moltissimo la farina di mais al posto della farina di frumento. E in questo caso, se non si è celiaci, difficilmente si conosce il contenuto dei carboidrati di questo tipo di alimenti. No, non è più difficile, però è assolutamente necessario portare con sé un certificato rilasciato dal proprio diabetologo. Un certificato che attesti il tipo di diabete e che dichiari che tutto il materiale che serve per la cura e per la gestione delle diabete stia sempre nel bagaglio a mano, compreso ovviamente l'insulina di riserva. E' bene anche che questo certificato sia redatto in lingua inglese, in modo da non avere problemi di comprensione. Inoltre, vi ricordo che l'insulina non deve mai stare nel bagaglio che si imbarca. E questo non soltanto perché c'è il rischio di perderla, ma soprattutto perché le basse temperature della stiva, durante il viaggio, potrebbero alterarne la funzione. Allora, il kit da viaggio va diversificato a seconda dello schema terapeutico che si sta seguendo. Se si pratica la terapia insulinica con le penne, è ovvio che dovete portare con voi un numero adeguato di aghi e di penne in base alla durata di viaggio. Io vi consiglio sempre di portare un quantitativo superiore a quello che siete abituati ad utilizzare per eventuale iperglicemie non previste che vanno corrette, quindi perché c'è un consumo superiore alla normalità, alla quotidianità. Se invece si utilizza il microinfusore, la prima cosa da fare è contattare l'azienda fornitrice. E questo per verificare se c'è la possibilità di avere un microinfusore di scorta. Poi, per quello che riguarda il materiale di consumo, ancora una volta vi consiglio di portare, oltre che un'adeguata quantità di insulina e tutto il materiale di consumo previsto, sempre un po' di più rispetto a quello che siete abituati a utilizzare. Una cosa che voglio sottolineare è l'uso delle batterie, quindi non dimenticate di portare le batterie di riserva, perché questo potrebbe essere un grosso problema, ritrovarsi con delle batterie che non siete in grado di sostituire. Ricapitolando, vi consiglio di portare un materiale di consumo che sia superiore a quello che usate nella quotidianità, perché è meglio che vi avanzi piuttosto che il contrario. Ovviamente è il glucometro, possibilmente due glucometri dello stesso modello. Vi suggerisco di cambiare le batterie prima di partire, magari oppure portarvene qualcuna di riserva. Anche in questo caso tenete in considerazione di portare un quantitativo supplementare di strisce per gli eventuali controlli aggiuntivi. Voglio sottolineare proprio questo concetto, è estremamente importante intensificare i controlli glicemici durante il viaggio, e questo per evitare sia le ipo che le iperglicemie con eventuale rischio di chietosi. Se poi utilizzate un sistema CGM o un flash monitoring, portate con voi un numero adeguato di sensori, considerando sempre la possibilità di un cambio più frequente rispetto a quello che siete abituati a fare. Bene, allora, per quanto riguarda il materiale di consumo, come per esempio gli aghi, le penne, l'insulina, i set per i microinfusori, le batterie, queste possono tranquillamente essere poste nelle apposite vaschette sul nastro per i controlli con i raggi X. Al contrario, è estremamente importante che tutti i dispositivi elettronici tipo microinfusori per insulina o i lettori per CGM non passino dal nastro sotto i raggi X perché potrebbero essere danneggiati. E lo stesso vale anche per i body scanner che potreste trovare in alcuni aeroporti internazionali. Quindi, teneteli sempre separati dal materiale ed informate il personale al momento del controllo che queste apparecchiature non possono essere sottoposte ai raggi X e neanche a quelli del body scanner. E se necessario, per spiegare il motivo per cui li dovete portare con voi, esibite il certificato rilasciato dal vostro diabetologo. A questo punto, passate tranquillamente sotto l'arco del metal detector con questi dispositivi. Probabilmente sarà necessaria una ispezione dei dispositivi elettronici da parte del personale di controllo. In questo caso, con molta pazienza, esibite le apparecchiature spiegate nel funzionamento, esibite il certificato, di modo che non ci siano problemi di nessun tipo. Ecco, questo è un vero problema, per cui vi consiglio vivamente di non dimenticare davvero nulla, perché non sempre è possibile reperire nel paese in cui si va tutto il materiale di gestione, né tantomeno con i canali comuni, come la farmacia. Quindi questo è estremamente importante che voi non dimentichiate nulla. Sì, lo zucchero è un alimento che si trova sempre, l'unico problema è come si trova, quindi io vi suggerisco di portare sempre con voi un adeguato numero di bustine, perché in alcuni paesi non lo troverete in questo formato. Se poi utilizzate altri tipi di integratori di glucosio, portatene anche in questo caso una scorta adeguata, perché è proprio questo che vi permetterà di gestire in maniera pronta eventuali episodi di ipoglicemia. Beh, direi che è opportuno farlo, soprattutto in quei casi in cui si va incontro a frequenti ipoglicemie e con una sintomatologia non eclatante, quindi questo è importante essere in grado di fare fronte a questa tipologia di emergenze. Una cosa che raccomando è, se si viaggia con qualcuno, di informare chi viaggia con noi, non soltanto del fatto di essere diabetici, ma come eventualmente si fronteggia una crisi ipoglicemica. Non tutti sono abituati a sapere, a fronteggiare una crisi ipoglicemica, non tutti sanno come somministrare lo zucchero, né tantomeno che cos'è il glucagone e come si usa il glucagone. Quindi avere qualcuno con noi che possa sapere cosa fare in questi casi è di estrema importanza. Allora, l'insulina che si sta utilizzando va conservata a temperatura ambiente, ovviamente una temperatura che non superi i 25 gradi e finché non si esaurisce va bene così, ovviamente anche in questo caso per un periodo che non superi le 4 settimane. Durante questa tenuta a temperatura ambiente non va esposta a fonti di calori come termosifone, elettrodomestici, non va tenuta in cucina e soprattutto non va tenuta in macchina o al sole. Per quanto riguarda invece il glucagone, la data di scadenza che viene riportata sulla confezione si riferisce al prodotto conservato nel frigo a una temperatura che va tra i 2 e gli 8 gradi. Dal momento in cui viene invece messo a temperatura ambiente, sempre ovviamente al di sotto dei 25 gradi, è importante scrivere sulla confezione la data in cui compiamo quest'operazione, perché da quel momento in poi la durata è limitata a 18 mesi, salvo che la scadenza non preceda la scadenza dei 18 mesi. Una volta che il glucagone viene messo in soluzione, quindi che abbiamo fatto la preparazione, sciolta la polverina con il solvente, il preparato risulta estremamente instabile, quindi in questo caso o lo si utilizza oppure se non c'è più bisogno va buttato, non può essere conservato e riusato, neanche in frigo. Ecco perché ho premesso che è estremamente importante conoscere le condizioni climatiche del paese che si va a visitare, in modo che ci si possa organizzare di conseguenza. È inutile dire che è indispensabile aumentare il numero dei controlli glicemici, perché il cambiamento dello stile di vita che si ha durante un viaggio modifica anche a volte in maniera importante il fabbisogno insulinico giornaliero. Per cui io vi suggerisco di confrontarvi sempre in anticipo con il vostro diabetologo in modo da farvi indicare quali possono essere le eventuali modifiche che dovrete effettuare prima o durante il viaggio. Questo ormai è una cosa abbastanza normale, i viaggi intercontinentali sono all'ordine del giorno e quindi non vedo perché i diabetici dovrebbero rinunciarci. Se si viaggia in paesi con un fuso orario diverso rispetto a quello italiano, quello che vi suggerisco è che una rivolta che siete arrivati a destinazione, i dosaggi insulinici che sono previsti si adeguino all'ora locale e che quindi insomma possiate prendere il ritmo dell'orario del paese che state visitando. Anche in questo caso può essere utile che vi consultiate con il vostro diabetologo perché è importante magari personalizzare quello che può essere un piccolo cambio di vita e di ora che fate. Una cosa che vi raccomando è di controllare che una volta giunti a destinazione abbiate cambiato l'ora di tutti i vostri dispositivi elettronici che gestiscono il diabete e di adeguarla all'ora locale. Beh, dipende da dove va. Ci sono dei viaggi che hanno un rischio intrinseco nell'essere effettuati da soli e questo indipendentemente che si sia o no diabetici. Per il resto, se si adottano le precauzioni adeguate, come per esempio controllare spesso la glicemia durante il viaggio, sapere sempre con che valore sto andando a letto in modo da poter prevenire e correggere eventuali ipoglicemie o iperglicemie. Io credo che veramente una persona con diabete possa fare il giro del mondo se questo è quello che gli fa più piacere fare. Sì, io credo che viaggiare sia una delle esperienze più belle e arricchenti che noi possiamo fare nella vita. Per cui a tutti voi dico non privatevene perché non è il diabete il limite, anzi può essere ancora qualcosa di più che vi aiuti a scoprire cose nuove. Per cui buon viaggio a tutti voi amici di Debbie. Ovviamente viaggiare e poi mi piace tanto scrivere. Di recente ho anche pubblicato due romanzi, uno si intitola Controvento e l'altro Nota a Margine. Mi piace anche cantare e come medico cantante faccio parte dell'associazione Medici in Vena con cui facciamo spettacoli di beneficenza. Buon viaggio a tutti voi! Sono stati consegnati nella sala dei Vescovi dell'Arcivescovado di Catania gli attestati e i camici bianchi ai nuovi volontari assistenza infermi che hanno frequentato il corso organizzato dall'Ufficio della Pastorale della Salute diretto da Don Mario Torracca e dall'Ordine dei Medici di Catania presieduto dal professor Massimo Buscema. Entrambi erano presenti alla consegna che è stata effettuata dall'Arcivescovo Monsignor Salvatore Cristina che affettuosamente si è trasformato anche egli in volontario indossando un camice. Una borsa di studio dal titolo La ricerca in Italia, un'idea per il futuro promossa dalla fondazione Lilli è stata assegnata per lo studio della psoriasi alla giovanissima ricercatrice Anna Elisa Verzi dell'Università di Catania a ricevere il premio dal ministro Lorenzin è stata la stessa ricercatrice catanese scelta come detto per una ricerca sulla psoriasi che anche in questo caso punta a migliorare la gestione terapeutica della malattia oggi la diagnosi e la gestione di questa patologia si basano unicamente sull'osservazione del sintomo più evidente le placche eritematose e desquamanti che appaiono sulla cute un sintomo che può essere comunque mandato in remissione con adeguate terapie farmacologiche era l'ultima notizia di Catania Medica News grazie per averci seguito, arrivederci grazie a tutti